Cos'è la forza di Archimede? E' quella spinta che ricevono tutti gli oggetti immersi in un liquido o in un gas, cioè in un fluido. E' una spinta verso l'alto, la spinta di Archimede. La si può vedere con questo semplice esperimento. Si prende un oggetto, per esempio un parallelepipedo di alluminio, si misura il suo peso fuori dell'acqua e poi si immerge progressivamente nell'acqua e si vede che il suo peso effettivo si riduce. Questi sono i risultati sperimentali veri dell'esperimento fatto con l'alluminio e l'acqua. Per esempio con l'alluminio inserito nell'acqua per metà il peso effettivo scende da 113 grammi peso a 90 quindi vuol dire che i 23 grammi peso di diminuzione sono dovuti a una spinta dal basso verso l'alto di 23 grammi peso che è la forza di Archimede. Quando poi invece il parallelepipedo di alluminio viene inserito completamente, immerso completamente in acqua allora si vede che la riduzione di peso è di 46 grammi peso. Vuol dire che in queste condizioni, cioè in immersione totale la forza di Archimede verso l'alto è di 46 grammi peso. Se poi continuiamo ad immergere il parallelepipedo ancora più in profondità vediamo che il peso effettivo non diminuisce ancora. Una volta immerso totalmente, anche scendendo in profondità la spinta di Archimede rimane sempre la stessa, in questo esempio 46 grammi peso. Se proviamo a fare lo stesso esperimento con l'alcol al posto dell'acqua siccome l'alcol è un liquido meno denso dell'acqua troveremo che la forza di Archimede è un po' meno intensa e lo vedremo perché la riduzione di peso sarà minore. Per raccogliere i dati sperimentali aspettiamo di fare l'esperimento in classe. Dunque la spinta di Archimede è la spinta che un liquido esercita su un oggetto immerso o anche parzialmente immerso una forza che lo spinge verso l'alto e che è più intensa se il liquido è più denso. Non solo i liquidi ma anche i gas fanno la forza di Archimede verso l'alto forza che è responsabile del galleggiamento di una mongolfiera di un dirigibile che vanno in alto di un palloncino pieno d'elio che risale. Siccome i gas sono meno densi dei liquidi però la spinta di Archimede che fanno è più debole di quella dei liquidi. Quindi tutti i fluidi fanno la spinta di Archimede i fluidi sarebbero, lo sappiamo, i liquidi e i gas. Secondo la leggenda Archimede utilizzò la spinta che fanno i liquidi sugli oggetti immersi per capire se una corona d'oro era tutta piena d'oro anche all'interno o era soltanto ricoperta d'oro nello strato superficiale. Una leggenda che va approfondita però. Vediamo adesso perché si origina la spinta di Archimede sugli oggetti immersi. Prendiamo per esempio un parallelepipedo oppure un cubo di ferro immergiamolo completamente in un liquido per esempio in acqua e sappiamo che l'acqua esercita una pressione su tutte le superfici di questo oggetto. Questa pressione è maggiore sulla superficie, sulla faccia inferiore del cubo perché la faccia inferiore si trova a una profondità maggiore per la legge di Stevin. Invece sulla faccia superiore che si trova a minor profondità la pressione è minore. Questo sbilanciamento di pressione tra la pressione che preme da sopra e quella che preme da sotto è responsabile di una spinta netta verso l'alto che appunto è la forza di Archimede. Invece le pressioni laterali che premono a sinistra e a destra si annullano tra loro. Dunque la spinta di Archimede verso l'alto è generata dalla differenza di pressione tra la pressione sotto che è più intensa e la pressione sopra che è meno intensa. La spinta di Archimede non dipende dal materiale né dalla densità dell'eggetto immerso. Se noi sostituiamo il cubo di ferro con un cubo identico in forme e dimensioni ma di legno l'acqua che sta intorno non distingue se il cubo è di ferro o di legno ma esercita le stesse pressioni di prima. Quindi la spinta di Archimede sarà identica a prima. L'acqua non distingue se il cubo è di legno o di ferro schiaccia il cubo sempre con le stesse pressioni e lo spinge nettamente verso l'alto. La profondità non è importante, non conta. Per esempio il cubo di ferro a questa profondità ha una differenza di pressione di 200 tor tra la pressione sopra che è minore e la pressione sulla faccia inferiore. Anche quando noi lo immergiamo a una maggiore profondità la differenza tra la pressione sopra e la pressione sotto rimane sempre di 200 tor. anche se la pressione sopra è aumentata da 800 a 900 la pressione sotto anche è aumentata da 1000 a 1100 perché le facce del cubo si trovano più in profondità. Quindi per la legge di Stevin le pressioni sono più forti ma la differenza di pressione è sempre di 200 tor in entrambi i casi e quindi la spinta di Archimede è uguale a prima. Dunque in conclusione la spinta di Archimede non aumenta aumentando la profondità d'immersione dell'oggetto. Per calcolare il valore della spinta di Archimede immaginiamo di sostituire il cubo di ferro o di legno con un cubo d'acqua cioè di ritagliare, chiaramente è una cosa immaginaria, astratta un cubo d'acqua delle stesse dimensioni di prima all'interno dell'acqua stessa. L'acqua circostante che circonda il cubo d'acqua esercita sempre le stesse pressioni che esercitava prima intorno al cubo di ferro e al cubo di legno perché l'acqua intorno abbiamo detto che non distingue se il cubo è di ferro, è di legno o è d'acqua e quindi esercita l'acqua circostante la stessa forza d'Archimede verso l'alto che esercitava prima per esempio 10 N. Noi sappiamo però che questo cubo d'acqua sta fermo all'interno del resto dell'acqua, non si muove e quindi vuol dire che il peso di questo cubo d'acqua è perfettamente uguale alla forza d'Archimede che subisce cioè le due forze si annullano e questo cubo d'acqua rimane fermo in equilibrio quindi possiamo dire che la forza d'Archimede è intensa esattamente quanto il peso del cubo d'acqua se noi adesso togliamo il cubo d'acqua e ci rimettiamo il cubo di ferro o il cubo di legno abbiamo detto che la forza d'Archimede rimane identica e quindi la forza d'Archimede che spinge verso l'alto il cubo di legno e il cubo di ferro ha la stessa intensità del peso del cubo d'acqua cioè del peso del liquido spostato infatti il peso del cubo d'acqua vuol dire il peso del liquido spostato dall'oggetto quando il cubo di ferro viene immerso nell'acqua sposta una quantità di liquido che ha lo stesso volume del cubo di ferro quindi il cubo di ferro o di legno ricevono una spinta verso l'alto la forza d'Archimede pari al peso del cubo d'acqua cioè del volume dell'acqua che hanno spostato i due cubi la forza d'Archimede è uguale al peso del liquido spostato dall'oggetto immerso per calcolare la forza d'Archimede basterà quindi calcolare il peso di questo cubo d'acqua spostata il peso di questo cubo si calcola massa per accelerazione di gravità e la massa si calcola densità per volume è la formula inversa della definizione di densità massa fratto volume quindi al posto della massa del cubo d'acqua del liquido spostato scriviamo densità per volume sempre dell'acqua però, sempre del liquido e quindi la forza d'Archimede, questa qui che è uguale al peso del liquido spostato si calcola densità del liquido per il volume del liquido spostato per G finora abbiamo sempre immaginato un oggetto completamente immerso nel liquido però adesso immaginiamo un oggetto parzialmente immerso allora per calcolare il peso del liquido spostato dobbiamo inserire nella formula di Archimede soltanto quella parte di volume che effettivamente è sommersa cioè la parte di liquido spostato il volume di liquido spostato lo chiamo Vim la parte di volume immersa per esempio, adesso la forza di Archimede è minore di prima è solo di 7 N perché il liquido spostato è minore questa formula è intuitiva anche perché vi compare la densità del liquido più il liquido è denso ricordiamo l'esempio di prima con l'acqua e l'alcol e più la forza di Archimede è intensa l'acqua fa una spinta di Archimede più forte dell'alcol perché l'acqua è più densa dunque, in accordo con questa formula la forza di Archimede i liquidi più densi esercitano una spinta di Archimede più intensa se l'oggetto sposta meno liquido perché è immerso in parte riceve una spinta di Archimede meno intensa infatti ci va il volume soltanto della parte immersa il volume del liquido spostato ora vediamo quando un oggetto affonda come un cubo di ferro oppure risale in superficie come un cubo di legno abbiamo detto che se i due cubi hanno le stesse identiche dimensioni la forza di Archimede che ricevono è identica 10 newton per esempio quello che cambia è il diverso peso di questi due oggetti il peso sarebbe la forza di gravità con cui la terra tira questi oggetti li attira verso il centro della terra il cubo di ferro per esempio pesa 80 newton il cubo di legno pesa solo 8 newton quindi il cubo di ferro affonda perché il suo peso è maggiore della forza di Archimede verso l'alto il cubo di legno invece risale perché il suo peso è minore della forza di Archimede invece di confrontare la forza di Archimede con il peso si possono confrontare la densità dell'oggetto con la densità del liquido qui possiamo dire che il cubo di ferro affonda perché la densità del ferro è maggiore della densità dell'acqua invece il cubo di legno risale perché la densità del legno è minore della densità dell'acqua la dimostrazione fatta con le densità è qui immaginiamo per esempio il cubo di ferro la forza peso è maggiore della forza di Archimede e l'oggetto affonda allora al posto delle forze vogliamo confrontare le densità quindi al posto delle forze scriviamo massa per g la forza peso dell'oggetto la scriviamo massa dell'oggetto per g la massa dell'oggetto la scriviamo densità per volume densità dell'oggetto, volume dell'oggetto per g la forza di Archimede l'abbiamo vista prima alla formula densità del liquido per il volume del liquido spostato per g siccome l'oggetto è completamente immerso in questo esempio allora il volume dell'oggetto è uguale al volume del liquido spostato perché l'oggetto sposta una quantità di liquido uguale al proprio volume allora si semplificano tutti questi termini e rimane un confronto fra la densità dell'oggetto e la densità del liquido quindi la forza peso è maggiore della forza di Archimede e questo comporta che la densità dell'oggetto è maggiore della densità del liquido ragionando al contrario se la densità dell'oggetto è maggiore della densità del liquido come scritto qui allora l'oggetto affonda perché questo peso supera la forza di Archimede viceversa nel caso del legno se la densità dell'oggetto è minore della densità del liquido allora questo peso è inferiore alla forza di Archimede e l'oggetto risale si può anche dimostrare che il rapporto fra la forza peso e la forza di Archimede è uguale al rapporto tra le densità dell'oggetto e del liquido per esempio nell'esempio del cubo di legno il rapporto tra la forza peso e la forza di Archimede è 8 decimi allora si può dimostrare che 8 decimi è anche il rapporto tra la densità del legno e la densità dell'acqua cioè la densità di questo legno è l'80% della densità dell'acqua è questa formula il rapporto tra forza peso e forza di Archimede è uguale al rapporto delle densità dell'oggetto e del liquido un altro esempio qui la forza peso è 80 N e qui 10 N la forza di Archimede vuol dire che la forza peso è 8 volte più grande della forza di Archimede allora questo significa che la densità di questo cubo di ferro la densità del ferro è 8 volte superiore alla densità dell'acqua è interessante il caso di un bullone di acciaio che affonda nell'acqua perché ha una densità maggiore di quella dell'acqua ma galleggia sul mercurio perché l'acciaio è meno denso del mercurio vediamo ora la condizione di galleggiamento quando un oggetto è meno denso del liquido quindi risale in superficie e galleggia in equilibrio parzialmente emerso avendo trovato l'equilibrio vuol dire che non va nessù e ne giù vuol dire che le forze su di lui si bilanciano perfettamente le forze sono il peso e la forza di Archimede il peso del cubo di legno è uguale a prima è la forza di gravità con cui la terra lo attira verso il basso e quindi è sempre 8 N come prima la forza di Archimede prima era 10 N quando il cubo era completamente immerso adesso che il cubo è immerso la forza è parzialmente emerso la forza di Archimede si riduce e diventa uguale al peso 8 N e questa è la condizione di equilibrio la risultante delle forze è 0 e il blocco di legno sta fermo perché si è ridotta la forza di Archimede da 10 a 8 N? perché è diminuito il volume di liquido spostato adesso il cubo di legno non sposta più una quantità un volume d'acqua uguale al volume del cubo di legno ma sposta un volume d'acqua minore sposta un volume d'acqua pari alla parte sommersa quindi non tutto il cubo di legno ma soltanto la parte sommersa la forza di Archimede ha perso un 20% della sua intensità perché era 10 N quando il cubo era tutto immerso adesso è 8 N il 20% della sua intensità l'ha persa perché il 20% del cubo adesso è fuori dell'acqua la parte che rimane sott'acqua è l'80% questo si può dimostrare rigorosamente proprio dalla condizione di equilibrio che la forza peso e la forza di Archimede devono essere uguali scrivendo la forza peso come abbiamo visto prima densità per volume dell'oggetto per G e la forza di Archimede come abbiamo visto prima densità per il volume di liquido spostato per G viene fuori che il rapporto tra il volume immerso e la parte sommersa dell'oggetto e l'intero volume dell'oggetto è pari al rapporto delle densità ad esempio qui la parte immersa è l'80% del blocco di legno e l'80% è anche il rapporto tra la densità del legno e la densità dell'acqua in altre parole siccome la densità del legno è l'80% della densità dell'acqua allora il blocco di legno trova il suo equilibrio rimanendo immerso per l'80% del suo volume come scritto qua il cubo di legno che ha una densità pari a 0,80 volte la densità dell'acqua che alleggia restando immerso per l'80% del suo volume il volume immerso è il 20% e questo 20% immerso è responsabile del 20% di forza d'Archimede persa da 10 a 8 N vediamo adesso l'esempio dell'iceberg fatto di ghiaccio meno denso dell'acqua 920 contro 1030 kg al metro cubo 1030 per via dei sali minerali presenti nell'acqua il rapporto tra le densità del ghiaccio e dell'acqua è quasi il 90% allora per quello che abbiamo detto a proposito di questa formula e l'esempio del cubo di legno allora il 90% dell'iceberg è sommerso rimane sommerso il 90% perché il 90% è il rapporto tra la densità del ghiaccio e la densità dell'acqua noi vediamo soltanto quel 10% che emerge adesso vediamo una serie di esercizi sulla spinta di Archimede esercizi in cui ci servirà di ricordare di utilizzare le aree per esempio del cerchio e i volumi di figure geometriche particolari come la sfera, i parallelepipedi e i cilindri